Ben trovati in un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato. Ancora un via vai sull'Europa di perturbazioni da ovest verso est, quindi con tutto l'Atlantico che tornerà a ruggire sul vecchio continente. Andiamo a vedere quindi la situazione sull'Italia, una giornata in variabilità ma poche le precipitazioni, nevicate sulle Alpi settentrionali di confine, anche la Valle d'Osta, altrove il tempo stabile se non locali piovaschi sull'entroterra del centro Italia e sulla Calabria tirrenica. In sintesi quindi una giornata di sabato abbastanza bella, tra sole e nubi sparse, come dicevamo precipitazioni poche se non le nevicate, a tratti anche copiose sulle Alpi più settentrionali di confine, compresa la Valle d'Osta. Temperature che in molte zone saranno primaverili anche oltre i 18-20 gradi. Ulteriori dettagli ritrovate scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.